I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Comunque è martedì. Il martedì si va in discoteca, chiediamola al DJ producer Patrizio Mattei. A Ibiza sì. Non si smette mai. In realtà è il giorno che chiude il weekend del martedì. 35 secondi, già possiamo assegnare il premio GAC di oggi. Però ai nostri tempi il martedì era il giorno, non so se è adesso, degli studenti universitari. No, è vero, è vero. Alfeus a Roma, i giardini da Done, dove? È la cosa che si ballava sui tavoli. Pensate quant'era esotico per noi degli anni Ottanta. Anni fa, non so se ancora c'è, c'era una serata il lunedì invece con gli universitari che si chiamava Any Given Monday. Bellissimo, molto carino. Ci sono delle città che hanno il giorno dello studente il mercoledì. Quindi il mercoledì sera praticamente finiva la settimana. E quando studiano gli studenti? Esatto, fino al mercoledì pomeriggio. Poi mancavano tutti, dall'università non c'era più nessuno. Vabbè, sono le 736. Sentite il sorriso nel nostro timbre. Senti come suona bene, quella mezz'ora in più di sonno. Però senti come siamo svegli. Ci fa bene. Noi sì, voi all'ascolto un po' di meno. Ieri non abbiamo fatto il lancio sigla, però Veronica giustamente ha detto, vi ricordo, 342 00 00 700. Potete lanciare voi la sigla come? Cantando, celebrando la vostra giornata, essendo ironici. Facendo anche le scenette, secondo me ieri abbiamo stretto troppo il campo. Cioè dai, dai, le scenette divertenti a volte funzionavano. L'importante è che siate autori di voi stessi. No, le scenette. Dai, le scenette. Vuoi le gags? Le gags con i figli, con i bambini. L'importante è sempre stare sotto i 20 secondi. Ti stai anche allargata. A testa in giù, no? Poi portateci l'acqua con le orecchie, mettendo la fettina di limone. Cos'è, è arrivato un messaggio adesso? Eh sì, perché arrivano. Arrivano, arrivano. Perché hai fatto quel gesto brutto, come a dire maledetto? Maledetto. Sì, ma non ce l'ho ovviamente con gli ascoltatori, ce l'ho con il computer. E con Patrizio. Che doveva abbassare il canale. Ma non è vero. Non è vero. È sempre colpa di loro. Quest'anno disegno gli errori. Ricordatevi, oggi... Ma non è vero. Se si sente un suono che non vogliamo, è colpa tua. Quest'anno rimandiamo, eh? A dicembre devi fare l'esame di riparazione. Dai, sentiamo il lancio di oggi. Allora, mi dia la risposta. La sa? La gag. Sì, sì, la so. Vincero la battaglia. Grazie alla loro... No. Sigla! Sigla! Martedì, 5 settembre 2023. Questa è Radio DJ. Canta la patria. Buongiorno! Se mi chiedi come va? Fa tutto bene. Se mi chiedi come va? Va a gonfierere. Ti chiedi cosa sono? Il triomedusa. Uuuuuh. I giornali d'intese. Iiii! Motocicletta. Riesci a capire. Ah! Tipo tutto a poi. C'è il triomedusa, quindi... You don't stop. Canzoni travisate sembrano... Vinci in piozza. Tre culattoni. Una guatanazza. Una guatanazza. Ora sapi come suona. Comincia la mattina, tutti in culo. La balena. Come dice Lino. Porca puttera. Se mi chiedi come va? Fa tutto bene. Se mi chiedi come va? Fa gonfierere. Se mi chiedi cosa sono? Il triomedusa. Se mi chiedi di cambiare d'intese. Medici, l'ascolto bentornati da parte di... Giorgio e Furio. Allora facciamo così. Diamo un tema al lancio sigla. Questa settimana solo brutte invitazioni. No, no, no. Brutte invitazioni. Non era neanche una gag. Era una brutta invitazione già fatta. Esatto. Perché questa cosa della sigla... Certo, sì. L'hanno già fatta almeno due o tre volte. Quindi brutte imitazioni con battute scontate. In questo caso tutti siamo convinti di saper fare Mike. Buongiorno. Tutti. Corrado. Fantozzi. Oh, come buono lei. Cos'altro c'è? Però adesso devi farlo con i presentatori di adesso. Perché ai tempi nostri era così. E ora è tosto, è tosto. Fammi Jerry Scotti. Signora. Amadeus è tostissimo. Lo faceva molto bene Max Tortora, mi ricorda Amadeus. Però cosa fai? Non lo so, non lo faccio. Te lo faccio facile. Carlo Conti. E' bene, bene. Maestro. Ha qualcosa dei nostri tempi. E poi la settimana prossima, bravo, facciamo gli accenti. Fatti male. Accenti sbagliati. Accenti fatti male. Tra l'altro polemica di Picchio Favino sui lanci sigla. Ha detto che gli accenti li devono fare. Le persone del posto. Sono italiani. Sono italiani. Il toscano deve fare il toscano. Dai, allora mettiamo un disco poi. Ogni promessa è debito. Ma no, ma no. Io spero che non ci risponda. Dobbiamo sentire. Ma possiamo tirar giù dal letto Vanzini per la storia della travisata. La travisata sulle corregge. Vediamo se Carlo Vanzini ci conferma che a Monza si corre. È successo. Gli abbiamo lasciato ieri la giornata tranquilla che aveva lavorato. Oggi lo tiriamo giù dal letto. Intanto iniziamo con gli Stereofonics che ci dicono Beh ragazzi, dovete avere tutti quanti una bellissima giornata. Ma ascoltate DJ e la giornata sarà splendida. Neanche a farla apposta gli Stereofonics avevano proprio all'inizio una travisata che era salve e si sto bene. Salve e si sto bene. A proposito di travisate, la colpa è sua. Spero che abbia ascoltato la puntata di ieri e ha inopinatamente risposto al telefono Carlo Vanzini. Buongiorno Carlo. Ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ora tu penserai che ti stiamo per parlare della Formula 1. Certo, no. Ma stiamo per parlare di quello. Come no, come no. Tu ieri per caso hai sentito l'ottima rubrica canzoni travisate gestita da Andrea Prevignano? No, probabilmente no. Sì, dico così sì, ma no. No, perché c'era una travisata che ci raccontava di una pratica che sembra essere abbastanza comune da parte di Verstappen. Non solo, non pare che sia il segreto per il quale Verstappen sta vincendo tutte le gare. 10 vittorie consecutive. C'è un segreto anche all'interno della squadra. Cioè che emetta dei forti e squassanti peti. Nel casco dell'avversario. Nel casco dell'avversario di turno. Non a caso la travisata parlava di score, ed è qua scoreggia Monza. Tu puoi confermarci che nei paddock così... Giravoce, giravoce, insomma. Giravoce che insomma tutti stanno un po' distanti. Perché nel momento del semaforo, sai, quel momento... Di tensione. Di tensione. In effetti gli altri vedi che ti lasciano un po' andare. Lo lasciano un po' andare e poi nessuno si riavvicina per quel motivo lì. Credo sì che sia la spiegazione... Grazie. ...molto più tecnica che possiamo trovare in questo... Grazie Carlo! Ci sentiamo passione! Io adesso mi aspetto che durante la prossima diretta del Gran Premio ci spieghi. No, no, no. Un'attenta analisi. Carlo, voi la mettete questa canzone senza dire nulla. Senza dire nulla. Accompagnate le immagini. Senti, a Proglia di Monza si vede un po' di luce. Cioè io ho seguito tutto il tuo commento, vediamo se ho capito. Servio è il motore, il motore c'è. Il motore sicuramente c'è. Poi serve un telaio, le ruote che funzionano in temperatura giusta, le strategie fatte bene, quindi servono ancora un bel po' di cose. Anche i piloti ci sono. Oltre al motore direi che la Ferrari è a posto anche di piloti. Però si vede un po' di luce, ma il tunnel mi sembra ancora molto lungo. E soprattutto l'uscita del tunnel è fissata a una data... Troppo vicina. No, no, io dicevo dal punto di vista del Mondiale che proprio... Cioè non c'è proprio nessuna speranza. Quello l'avevamo già visto ai test ancora prima di... Ai test addirittura. Sì, alla prima gara abbiamo avuto la conferma, ma i test abbiamo avuto l'impressione che fosse tutto finito, un po' come voi. Senti, grazie, 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 grazie. Ma questo lo sapevamo da anni. Senti Carlo, la notizia poi, diciamo che ha fatto da corollario al Gran Premio, è questo tentato furto dell'orologio di Sainz. Di Sainz, e scopriamo che Sainz va più veloce a piedi che in macchina, perché da piedi li ha presi, li ha presi, li ha presi. Era già successo alle Clerc, al quale, attenzione, gioca della bene questa causa che ti sto per dirti, avevano rubato le scarpe da quello che so. Che marca? No, credo che anche in quel caso fosse un tentativo. No, lì si è riuscito, ma poi li hanno presi. Lì si è riuscito, ma poi li hanno presi, sì. Ma anche in quel caso c'era stato il tentativo di inseguimento, ma in macchina, mentre ieri c'è stato, grazie all'aiuto di passanti e quant'altro sono riusciti. 150 mila euro, 200 mila euro, adesso sicuramente al 342, 00, 00, 700, però io mi domando, questi orologi chiaramente non li compri, diciamo, nei negozi? Suppongo che siano fatti appositamente per biologi. Ma no, se tu vai da Bulgari credo che lo trovi, un orologio così, eh? Se vai nei negozi o li trovi, i orologi, su queste categorie siamo al primo prezzo, eh? Siamo al prezzo base. Di solito si poi li ordini, no? Diciamo nel senso. Io infatti ho quelli di più alto livello. Ma sai perché a te non li rubano? Perché corri troppo veloce. Ma perché lui li mette alle caviglie. Senti Carlo, si va a Singapore, bellissima Singapore tra l'altro, molto bello, come luogo anche, no? C'è una sorta di New York asiatica. No, è una città spettacolare, anche una città dove vivi bene, giri di notte, consapevole che... Non ti rubano l'orologio, no? L'orologio, no? No, perché i ladri ce l'hanno più costoso di quelli. Che è sto Barboli? Che cosa dobbiamo aspettarci? Eh, aspettiamo di vedere Verstappen vincere. Così, sì, sì. Con le sue due spinte lì che dicevi prima. Esatto. No, a Singapore non so se è legale, eh, fare... Eh, bravo, bravo. Quindi vediamo. Magari si potrebbe finalmente interrompere la striscia. Farebbe bene un po' la Formula 1, vedere Verstappen perdere, non ce ne voglia. Poi la striscia, cioè, ce l'hai anche, se continui a spingere così, poi la striscia c'è anche, no? Sì, 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 sì. Grazie, cazzo. Hai fatto bene. Vedi? Grazie. Basta, basta. Non è così. Allora, noi parlavamo di altro. Allora, lì vedi che è tutto collegato. In effetti c'è del vero allora. C'è del vero. Vedi, è quello. Va bene, vediamo se la Ferrari reagisce un po'. Esatto. Con una pista dove dovrebbe faticare e vediamo se i progressi si vedono laddove anche serve un caricare dinamico, senza entrare nei dettagli, che latita un po' in casa Ferrari. Grazie Carlo Vanzini, alla prossima, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao, 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 ciao. Veronica, ma dove sei? Veronica, dove sei? Sei qui, sei qui con noi? Eccomi, sì. Ma non è intervenuta perché non è patita di... Quando si parla di una distratta, secondo me perché... Ma comunque, sono d'accordo con gli ascoltatori che definiscono Carlo il quarto del triombo eduto. Non so se la cosa gli faccia a piacere, speriamo di sì. E al 342 00 00 700 ci segnalano che Alessandro Nannini faceva il bisognone nella tuta e poi la dava ai meccanici. Eccola qua. Voilà, fatto, il giro fatto, tieni. Vabbè, stai due ore lì. E poi ci correggono, ragazzi, l'orologio costava 315 mila euro. 315 mila... Oh, orefici, venditori di orologi, possibile. Ma certo. 315 mila euro, ma non in negozio. Ah, sai che c'è un bel dialogo che è stato fatto su Twitter tra Alessandro Gasman e Frankie Energy. Alessandro Gasman si domandava, ma 315 mila euro, di che cosa è fatto quello d'oroggio? Eh, pagare un orologio d'oro. E Frankie Energy ha risposto, Diego. E credo che sia la risposta perfetta. Quello giusto. Però ci sono, fidati, negozioni. Quelli ad esempio a Via Condutti a Roma o a Via Monte Napoleone. Cioè, io vado lì e do 300 mila euro. Eh, se ce li hai, incontanti. Con la valigetta qui. Con la valigetta, con la valigetta. Sai che ce li hai incontanti. Enrico Albagnino, buongiorno Enrico! Eh, no, no, Enrico non ti sentiamo. È già là, Enrico, sai, lo sapevamo che lui ha le 7.50. Oh no. Ah, che c'è, c'è. Eccomi, ci sono, ci sono, ecco qua. Buongiorno Enrico, come stai? Buongiorno a voi, tutto bene. Bene, è un ricordo di tipo 20 anni fa, perché con la pina, torno al 2000, andavo in onda a quest'ora. Beh, ma è più giusto a quest'ora qua, è più giusto. C'è tempo per prepararsi, per attrezzarsi prima d'uscire. Enrico, tu sei il tipo che ha l'orologio o guarda l'ora sul cellulare? No, io sul cellulare. Ormai ho deposto l'orologio da anni e anni. E dove l'hai nascosto l'orologio? Eh, non so neanche più dove, ormai veramente un lontano ricordo ormai. Adesso come lui, anzi, io addirittura faccio il figo al mare, e che cerco di capire, a seconda della posizione del sol, e si vedo l'ombra. Ti giuro. Con la meridiana. Con la meridiana. Con la meridiana. E poi la clessidra per dire se è passato un minuto. Enrico, che tempo ci attende per oggi? Allora, beh, ci attende un tempo, cioè l'Italia è un po' divisa in realtà, perché c'è comunque l'anticiclone che risale dall'Africa verso l'Europa, soprattutto l'Europa occidentale, fino a toccare le isole britanniche, ma anche il sud del mare del nord, quindi arriva abbastanza nel nord Europa. Invece l'Italia rimane sul bordo orientale di questo anticiclone, con qualche spiffero freddo ancora. Per esempio, al nord comunque abbiamo niente di più che un po' di nuvolaglie la mattina sulla pianura padana, però tende a migliorare, quindi il sole preparerà nelle prossime ore dappertutto. Al centro un po' di nubi su Abruzzo e Molise, mentre al sud qui un'area di bassa pressione nei pressi dello Ionio porterà dei temporali. Quindi, attenzione, potranno essere inserate, che è abbastanza forti, sulla Calabria, la Sicilia orientale e il sud della Puglia, specie sulla Calabria Ionica. Perfetto. Questa zona stasera potrà vedere dei temporali abbastanza forti e le temperature sono abbastanza nella norma, un po' più freddo magari al sud. Enrico, ti dobbiamo fermare perché Padrini ha fatto il gesto quello classico che fa l'articolo, il triplice fischio che ce l'ha pubblicato. Fine, fine, fine. Ciao. Grazie mille, Riccato, Riccato. Ciao, grazie, ciao, ciao. Le 807, Post Malone, enough is enough. Questa è Radio DJ, la radio nella quale mediamente gli ascoltatori, i conduttori, tutti sono abbinati dal fatto che si guardano il pulso e l'orologio non c'è, nel senso che ci guardiamo generalmente che sono l'ora, poi sono un grande patito di orologi, per carità, però effettivamente spendere queste cifre mi sembra come dire... Stiamo facendo riferimento a cifre 300, a pari di 0, a cifre di case, una casa al pulso. Abbiamo un ospite che tra poco ci spiegherà, che ha trovato l'ottima Laura Stellini, che ci spiegherà secondo me che è anche un investimento, credo, però effettivamente devi averceli questi soldi. Ebbene, al 342 00 00 700 abbiamo un po' delle vostre opinioni, sentiamo. Ciao Zozzoni, ma perché vi stupite per un orologio da 315 mila euro? Io ho un'amica molto facoltosa che si è comprata una Bentley viola con la carta di credito, cioè la vista è entrata e se l'è comprata. Capito. Una roba... Ebbene, attenzione, l'ha comprata solo per leggere l'ora della macchina. Certo, certo. Che è un orologio martivale. Un orologio bello, grosso. Ecco che, sentite, siamo entrati in zona a Balberto. Ragazzi, buongiorno, ma che cosa in contanti con la ligetta? Ma taxi, strisci la carta? Anzi, no, ma passi col telefono e fai un NFT pagamento. Ma cosa ci vuole? 315 mila euro, come andiamo a pagare la busta e la spesa? Certo, certo. Le viadurine al supermercato. Dall'accento a quello dei roma dei. Pulcioni, questi commenti. Che ha detto che pulcioni? Che pulcioni. Pensate che io la Bentley ce l'ho come tendere alla macchina. Oh, che macchina è? Un'auto articolata. Ho la bisacca della Waltz Voice. La spesa, non lo sappiamo. Ancora, sentiamo. Buongiorno, trio. Buongiorno. Ma certo che ci sono orologi che costano così tanto. Una volta Ronaldo, Cristiano Ronaldo, si era presentato in conferenza stampa con un orologio che valeva più di 2 milioni di euro. E di che marca era? Che è fatto poi? E di che è fatto? E Beppe Ambrosini, delegato italiano della Fondazione Alta Orologeria. Buongiorno Beppe. Buongiorno, carissimi. Buongiorno a te. 2 milioni di euro l'orologio di Cristiano Ronaldo, confermi? Ma questo non so se costerà 2 milioni quello di Ronaldo, ma è facilmente sì. Perché Ronaldo acquista orologi molto particolari, serie numerate, addirittura fatti appositamente per lui. Quindi ci stanno i 2 milioni. Come ci stanno i 300 mila del Richard Mill che hanno cercato di rubare, che poi non lo hanno. Certo, sì, fatti, assolutamente. Per fortuna, per fortuna. Scusa Beppe, ma a quanto può arrivare un orologio che appunto io compro in un negozio seppur di lusso? Allora, parliamo di Rolex, per esempio, che è l'orologio più comune. Noto, anche noto. Un Daytona, diciamo, l'ultima generazione, quello con la ghiera in ceramica, attualmente in... E come fai a vedere l'ora, scusa, con la ghiera in ceramica? Non è scusa, no, è tutto nero, cioè, sono le 8 e 10, 5 punto per la meridiana come faccio io. E quanto vale? Ecco, allora, costa di listino 14.700 euro, mettiamo 15.000 euro, facciamo città tonda. Ecco, lo trovi sul mercato, così, diciamo, nel secondo polso, chiamiamo, dei riservi, così, dai 35, 36, 34 mila euro. Quindi più del doppio comunque. Meco. Però mi confermi che se tu, persona normale, entri in un negozio e cerchi di prendere quel Rolex, c'è una lista... Non lo trovi, non lo trovi. No, perché c'è una lista d'attesa. Eh, Beppe... Parliamo un attimo dell'orologio di Sainz. Quello l'ha comprato in un negozio e gliel'hanno spedito. Se l'è fatto fare a posto. Io penso che gliel'hanno, penso, regalato, perché tu sai che Richard Mill fa gli orologi per la Ferrari, ha un contratto con la Ferrari, e quindi i piloti indossano Richard Mill, penso anche da contratto. Quindi magari se lo hanno anche regalato. L'orologio di listino costa effettivamente 300 mila euro, 315, sono noccioline di differenza. Ma il valore, diciamo, del mercato, che poi è quello che determina il valore dell'orologio, gira intorno ai 450 mila, 500 mila euro. Perdonami, Beppe, ma perché l'hanno regalata a Sainz, che volendo, se lo poteva permettere, e non, che so, ad Andrea Premignano, che è povero come la merda? Perché non è filo, ma con la chiamata. Esatto. Io ho un Patek Philippe Grandmaster Chime. E quanto? Quanto vale? Eh, 31 milioni. Perché? Quanto? 31 milioni? Che cos'è? Quella cafonata via di diamante? No, non è quello. Quella è l'allucination di Gratia. Beppe, diciamo la verità. L'orologio è un investimento. Cioè, se tu che sei esperto, chiaramente puoi fare grandi investimenti. Assolutamente. Per quello che non lo compri. Oggi lo è, soprattutto le marche, diciamo, più blasonate, che fanno alcuni modelli molto ricercati, perché non basta la marca. Certo. Ci vuole anche il modello giusto. Rolex, per esempio, il Daytona, il Patek Philippe, c'è il Nautilus, il Royal Oak, e Dio de Martichet. Ecco, ci sono dei modelli specifici dove il pubblico è molto attento, lo cercano, non ci sono e quindi aumentano di volta. Che poi ho scoperto una cosa. Mi perdoni. Che fanno come i collezionisti di fumetti, ne comprano due. Uno lo tengono e non ce lo fa niente. E l'altro lo usa. Il collezionismo è ovunque. Caro Beppe, io concluderei, caro Beppe, dicendo, abbiamo citato tutti questi marchi, via a Cristoforo, come è l'abitudine di questo programma. Ragazzi, vediamo cosa arriva. Grazie a Beppe Ambrosini, un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, 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 ciao. Vampire 817, questa è Radio DJ, i bellissimi messaggi che stanno arrivando al 34200. Ti prego, leggi in fede. 3420000700, c'è Matteo che ci dice, ho appena comprato un orologio del valore di 75 euro a rate. Eh, ma che ne sai, magari diventa poi un orologio ricercatissimo, eh. Matteo è uno di noi da quando hanno fatto quell'opzione che si può spalmare in tre rate senza interessi. Senza interessi. Picchia, eh, ragazzi. E' solo quello ormai. Ti sembra di pagare meno, mamma. E poi una base lacrima, ti chiederei. Scusa, Patrizio, non te l'abbiamo anticipato, perché c'è la fede che è in coda sulla tangenziale per guadagnare il suo stipendio da umile serva insegnante dello Stato, che prende la metà di un collega olandese scoperto quest'estate, no, no, ma sappi che prendi la metà di tutti gli altri insegnanti in Europa. Penso a orologi che costano come appartamenti e poi penso con affetto a Carlo Marx e dico grazie per averci provato. Ci abbiamo provato, ragazzi. E' andato così. Andato così. Orologi come il caso. Poi effettivamente Sainz penso che 300. Sarà tanto anche per lui, 315 per l'Europa. Però ha spiegato che è stato regalato uno dei benefit che hai quando tu sei un pilota Ferrari. Però volete mettere il suo dispiacere nel non poter mettere un altro orologio? Certo. Ma ha compensato questo dispiacere. Lui è pazzo per gli swatch. Pazzo. Pazzo. Pazzo per quelli che costano poco. Pazzo per l'Europa. Pazzo per l'Europa. Pazzo per l'Europa. Pazzo per l'Europa. Però lui così, capito, quando fai il giri fa... Eh, ma sono le due a un quarto. Mi devo sbrigare. È per quello che va veloce. Dai, qualcuna delle vostre voci. Sentiamo. Beh, dopo l'intervento del signor Ambrosini abbiamo capito che la storia dei Rolex di Totti e Ila era di tanto rumore per nulla. Cioè, bruscolini, ci sono orologi che valgono di più. Ma sì, dai. Eh, ma lì era tanto. Cosa vuoi che sia. Dipende quanti erano. Erano tanti. Erano tanti. Erano tanti. Chiaramente sono qui squiglie per chi guadagna cifre di quel genere. Ma attenzione, perché alle otte e diciannove arriva Andrea Prevignano con la classifica dei cinque orologi più cari del mondo. Allora, poi direbbe Elio, cinque orologi che vi faranno bestemmiare. Ma è possibile. Però in maniera inattaccabile. Inattaccabile. Sono anche già degli spunti per i gari di Natale, eh. Bravo. Eh, certo. Muovetevi per tempo. No, beh, avete sentito, ci sono lunghe liste di attesa, quindi muoviamoci presto. Prendete nota che non sapete mai cosa fare. Tranquillo, tranquillo. Subito. Quinto posto. Quinto posto. Jäger Lecult Manchette calibro 101. Ah, calibro 101. Profilo unico in loro bianco. Vale 26 milioni. 26 milioni. Quinto posto. 26 milioni. 26 milioni di euro. Un segnatempo personalizzabile a forma di bracciale con un quadrante in zaffiro che può montare fino a 576 diamanti. Quarto posto. Io di zaffiro conosco solo la principessa. Sì, è vero. Fatti capire. Breguet Marie Antoinette. Ah, Breguet Marie Antoinette. Numero 1160. Attenzione, non la 59, non la 61. 1160 hai detto. Esiste un esemplare solo. Uno solo, ah, ok. Ma che serie è? L'originale venne costruito nel 1783 dall'azienda Breguet per la regina. è stato replicato, secondo il progetto originale, 30 milioni a tipo 4.000 elementi. Cioè una cosa in micro precisione. E attenzione, non funziona. Esatto. Perché è vecchio. Quello vecchio non funziona, quello nuovo. È così, è un oggetto di arredamento. Al terzo posto, Patek Philippe, Grandmaster Chime, è quello che... Quello sì, questo è il problema. 31 milioni. Attenzione perché è in acciaio. Cioè non ci sono... Beh, non si arrugginisce. Meglio. Se ci vai e fai il bagno. Posso farci il bagno. A mare ci vuoi farci il bagno. Poi ci sono due orologi. Al secondo, al primo posto, di Lawrence Graff, che è il gioielliere più ricco del mondo. Super appassionato ai gioielli. Che fa confezionare, naturalmente. The Fascination, mi viene 40 milioni. Allucination. Allucination. 55 milioni di dollari, 110 carati di rari diamanti colorati. Praticamente è un unico diamantone. Pensa che cosa bella. Il castonato del prezioso. Elegante, elegante, elegante. Imagination. Sì, grazie, grazie. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Come ho la sada fa. Tropico alle 824. Si sente che è la settimana della DJ Ten di Napoli. Ancora qualche pettorale lo trovate. Tutti su DJ Ten.it. Oppure DJ.it trovi poi. Lascia attenzione, la partenza è alle 930 da Piazza del Plebiscito. Sono andato a controllare. Vabbè, dai, vabbè. Allora si può fare. Attenzione, potremmo fare anche noi la file. Eh no, no, ormai l'abbiamo detto. Ormai sì. Il signor Michele Maiolo a domanda precisa abbiamo dato risposta precisa. Fate la te o la file? Abbiamo detto nessuna delle due. Lui ha detto fate la file. E noi facciamo la file. Se Michele Maiolo domanda, noi eseguiamo. E 342 00 00 700. Allora, messaggio definitivo. E poi cambiamo, come dire, argomento. Non parliamo più di orologi. da parte di Carmelo, se non sbaglio. Giusto? Sentite qui. Io mi compro gli orologi su Wish. Pago solamente il trasporto. Con 14-15 euro ne prendo 4-5. Se non contro la tipologia degli orologi. Certo. Me ne cambia uno al giorno. Faccio. Michele mi interessa. Ma hai ragione, l'ora è quella. Michele mi interessa. Per mandare il messaggio si è anche tirato un po' si vantano. Ma sai che anch'io va ascoltandolo. Non è venuto. E noi che pensavamo di parlare a un pubblico così un po' più... C'è di tu, c'è di tu. Noi abbiamo tutto. A proposito di upper class, trasferiamoci in Inghilterra. Parliamo di reali. Perché in realtà, insomma, è un argomento, come dire, che riguarda tutte le regole che ci sono a tavola, no? Per esempio, sicuramente, da noi non si possono utilizzare mezzi elettroci. cellulari, iPad, questo genere. Però mio figlio è campione del me lo prendi papà. Cioè, tu metti una cosa a tavola. Lui subito ti domanda. Lo prendi papà? Sicolo. C'è il giochino dell'acqua. Cioè, che tu devi versare l'acqua, ma non la devi finire. Devi lasciare quel goccettino in modo che quello dopo versa, finisce e fai... Ecco, bravo. Vai a prenderla in frigo. Due bottiglie addirittura. Poi arriva il prosciutto. Lo prendi papà? Sì. Ma ti ha neanche il prosciutto. Mangia con gli occhi, Leonardo. Vedi una cosa alla volta. Vuoi un po' di melone? Lo prendi papà? Sì. E poi, soprattutto, a tavola, mi raccomando, bambini, niente parolacce. Non si dice in genere, ma a tavola no. A tavola no. Problema risolto, invece. Guarda, tu avresti il problema risolto se fossi un royal. Ah, sì. Perché? Perché che fanno? Che fanno i royal? Perché bambini non sono reali, non sono previsti ai pranzi ufficiali, come è giusto che sia. Ah, beh, c'è. Sai quanto dureranno? Cioè, pranzo ufficiale adesso non c'è più, ma con la regina iniziava alle 11, finiva alle 11. Non possono mangiare allo stesso tavolo dei genitori e neanche nella stessa stanza. No, proprio lontani, lontani con la tata che gli fa mangiare alimenti sani. Sani, certo, sani. Questo dice lei di Maroni. Hai pad a tavola, sì o no? Chissà i reali. No, no, no. Nell'altra stanza forse sì, o lontano dagli occhi, o al cuore. Un reale ha degli attori di corte che interpretano tutte le favole che vuoi. Cioè, Peppa Pig basata sul tavolo, affettata lì, eh. E' così anche per Giorgio, Charlotte e Lewis. Ah sì? I tre figli di William e Kate che devono per forza di cose mangiare lontani. Dopo i 16 anni sono ammessi. Dopo i 16 anni? Quindi vuol dire che fanno un macello fino ai 16 anni. Non lamentatevi dei vostri figli, però, eh. Scusate, fino ai 18. 16 anni era la compagnia aerea, ma non c'entra nulla. 16 anni la compagnia aerea che vietava, mi pare, cioè, aveva delle zone, giusto? Previste. Delle zone. Sì, perché, diciamo, questo comportamento, questa abitudine, si sta diffondendo anche nelle compagnie aeree. Cominciano a fare tratte nelle quali non sono ammessi i bambini. No, 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 non tratte. Sezione dell'aereo che paghi un po' di più, dove ti è garantito che non ci stanno il bambeno che piange. Però, domanda, se bimbo piange a bordo che bimbo piange, eh, lo sappiamo. Però la domanda è, come fanno a evitare l'acustica? Perché se bimbo piange non è che una paratia ti evita chiaramente. Credo che invece ci sia proprio una paratia o qualcosa. Sì, sì, sì. C'è separata da una paratia o di una tenda, non so quanto questa cosa possa essere. Però, come dire, non li hai attorno. Sono 93 posti della compagnia Corendon Airlines, che è olandese, in Italia non vola. No, pampini qua, ora, olandesi noi. Ok, perfetto. Esatto, c'è questa zona solo adulti, sotto i 16 anni sono banditi, ragazzi. I bambini sono banditi, avete sentito cosa ha detto? Ah, prego. Certo che lo so, e lo ripeto. Banditi. Se viaggia sconto il film e bussa cia 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 Radio DJ e l'autopalla Pa 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 Triuno, Triuno Chiamate Roma Triuno, Triuno Chiamate Roma Meet me Never It never closes Meet me They were each Never hopeless All these They're in love Oh Honey, are you coming? I know a place downtown Baby, if you wanna go I'm gonna show you how This italian amore Is gonna love me Harder than ever before You would like it We're gonna get sky high And create a new world Where somebody might die But nobody gets hurt And if it sounds good for you Baby, just say the word And if it sounds good for you You would like it It's 5 a.m. We feel so good It's almost frightening It's 5 a.m. Made for you We can't deny Meet me there Where it never closes Meet me there Where it's never hopeless It's always fair and love Oh Honey, are you coming? Meet me there Where it never closes Meet me there I'll be near roses Always fair and love Oh Honey, are you coming? Before I found this place I was feeling so blue But then it turned me out Let it do it to you It's not a one-night stand If it turns into two Oh, I like it It's 5 a.m. We feel so good It's almost frightening Let's try again I don't deserve you You're a diamond Meet me there Where it never closes Meet me there Where it's never hopeless It's always fair and love Oh Honey, are you coming? Meet me there Where it never closes Meet me there I'll be near roses Always fair and love Oh Honey, are you coming? Honey, are you coming? Moneskin, honey, are you coming? Presentazione in grande stile Un po' all'americana Al Gazometro di Roma Si chiama Gazometro Capito? Lottini a fa' sabbatale Leggi Si chiama Gazometro Si chiama Gianluca Gazometro Si chiama Gazometro Via del Gazometro Si chiama Gazometro Leggi Ma non è possibile Si chiama Gazometro Ma non è possibile Ma già l'altra volta Controlla Guarda che c'è Il lettore del gaz Il Gazometro Cerca Ma dai Adesso Controlla Leggi l'altra volta L'hai fatta Questa cosa è già sbagliato Si chiama Gazometro Gazzometro Metti Gazometro E si appare il Gazometro Gazzometro Roma O il Gazometro Con esciunto O anche come Gazometro O Luxometro Eh ma si chiama Via del Gazometro Si chiama Gazometro Però è il Gazometro E praticamente viene chiamato Gazometro No no È Gazometro Non ci provano Non ti dà ci È stato il Gazometro Più grande d'Europa È stato il Gazometro Eh ma si chiama Gazometro Eh vabbè ma è chiaramente Ah allora Gasometro è l'oggetto In un altro posto Però quello Si chiama No no Si chiama Gazometro Quello di Roma Si chiama Gazometro E poi c'è anche il Gazometro O anche Gazzometro O eh Ragazzi non c'è più È comunque una È una struttura teorizzata Nel 1789 Vabbè Via Appassionale Sì Però la via si chiama Via del Gazometro Ma perché stanno a parlare D'esta cosa scusate Perché la presentazione Dei modi È stata lì Dicevo in grande stile Tra l'altro Veramente all'americana E a proposito invece C'è del tema Toccato precedentemente Dei bambini Che non possono stare a tavola Regole che vigono Nelle vostre tavole Sentiamo A casa mia Nessuno apre La bottiglia dell'acqua Nessuno toglie il tappo Perché appena uno lo fa Tutti gli altri muoiono Di sete E allungano il bicchiere Subito Allora è prima Prima abbiamo fatto C'è la scena Per andare a recuperare L'acqua Prima pure Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? La metti anche a me Ma che ingenuo Portali a tavola Già stappate È certo Così sei già via Il primo che la prende in mano La versa a tutti Ancora Buongiorno ragazzi A casa mia C'è la frase Che dicono i miei figli È Già che sei lì papà Io praticamente Sfioro con le chiappe La seggiola E mi devo rialzare Perché Continuamente Già che sei lì Già che sei lì Già che sei lì È tutto un già che sei lì E io già che sono lì Gli dico Avete le gambe buone Alzatevi voi E prendete quello che vi serve Grande classica Ciao ragazzi Ciao Luca Però anche io lo faccio Con i miei figli Già che sei lì Già che sei lì Ma lo fai che sono in zona O glielo fai a prescindere Cioè sai che tanto Si muove Sai che poi appunto Avendo la casa su due piani È bello fare Leo E ce l'hai dietro Dietro Mi porti Sulla ciabatte Ancora vai Oh trio Vedi che pro Ci hanno visto lungo I reali Io sono 12 anni Che non 12 anni 12 anni che non Più seduto Tranquillo Senza bordello Con mia moglie Volete mettere Mangiano di là Non rompono i coglioni Tutto il giorno Se lo fanno i reali Lo può fare Lo può fare chiunque Certo no Con questo epiteto Deve avere Buckingham Palace Renato da Taranto Buongiorno Renato Buongiorno 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 a te Allora Renato È capitato In una di quelle situazioni Nelle quali c'è scritto Vietato l'accesso Ai minori di 18 anni E qua la cosa si fa Protriginosa Caro Patrino E dove è successa Questa cosa Renato Allora Siamo sposati E mia moglie Nel 2015 Andiamo in un resort In Messico Io prendo la mappa E leggo Spiaggia Vietata ai minori di 18 E' fatta Bomba Andiamo a vedere Che cosa succedeva E niente Non c'erano i ragazzi Era solo Per insilare Un set porno Scusa Nel tuo immaginario Che cosa Succedeva Su questa spiaggia Cioè Niente Non si sa Ma non lo so C'è da dire Quei resort All inclusive Vopen bar Sempre da bere Chissà Chissà Magari c'è anche quello Non voglio spezzare Una lancia in favore di Renato Io ricordo tre persone Che per una spiaggia Vietata ai minori di 18 anni Si sono presi le spine Hanno camminato sui sanzi Ma quella Era 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 Necita Curiosità giornalistica Per non vedere niente anche lì Però l'abbiamo fatto Vabbè Renato Comunque poi il viaggio è andato bene No? Sì Siamo stati bene Ci siamo divertiti Tutto a posto Abbiamo avuto bambini dopo Io lì volevo arrivare Vedi che ha funzionato È vietato ai minori Per averli dopo Sai che c'è? Qua non succede niente Torniamo in camera Andiamo in camera Grazie Renato Ciao 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 Buon martedì Grazie Ciao ciao Ah non canta Ah non canta più Eccola arriva Arriva Se l'è cantata tutta Se l'è cantata tutta Scusa No no Ti prego Tutta Tutta Che bello ragazzi Ritrovarvi Tutta la devi cantare Tutta 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 E questa l'ha sbagliata Patrizio Mattei E gliela segniamo anche oggi Siamo a due Due meno Due meno No povero Patrizio No no Tutto ciò che è audio È colpa sua Ma questa volta Non è colpa sua Ma io neanche mi difendo Perché tanto è inutile Bullismo è inutile Esatto 846 Wem Am your man Avete visto Il documentario su Netflix Bellissimo Sugli Wem Bellissimo E tra l'altro Scopriamo che dei due Quello figo Era Andy Fondamentalmente L'altro era il timido E poi quello che ha capito tutto Ha molato tutto Se hai potuto la vita Ci segnalano al 342 00 00 700 Che il già che sei lì È un grande classico Anche della barca a vela Già che sei lì Già che sei lì Mi prendi Già che sei lì Però lì è più comprensibile Perché devi fare A casa A casa Come si chiama nonnismo Si chiama genitorismo Non lo so No però c'è Diciamo che è più univoco Cioè sia genitori figli Figli genitori Per esempio Sentite questo messaggio Ragazzi Ma lì sta l'errore Io ho mia madre inglese E a tavola Ci anticipava Con un buon La vuoi la maionese? Sì 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 mamma Eh valla a prendere Ciao ragazzi È perché è inglese È una cosa inglese È una cosa inglese Ma quanti impariamo Degli inglesi Molto Montessori Molto Montessori La vuoi sì Valla a prendere Dice ragazze Allora vi chiedo una cosa Ormai ho esperienze Non rispondo più I miei fratelli più piccoli Ancora rispondono È un incentivo all'ignoranza Esatto Ma la capitale della Francia Boh Amsterdam Sarà Tallinn Io invece sono campione Della cosa buttata lì Ricordiamoci di chiudere il gatto Capito così a tutti Non è che lo faccio Oh ricordiamoci Ricordiamoci Io per fare questa cosa Ormai ho una parete di lavagna Dove le scrivo Cioè la dico E la scrivo Sì la colpe di tutti Ancora dai Sentiamo Buongiorno trio Buongiorno Per ricollegarmi al Oh mentre sei in piedi Mio padre Che adesso ha la bellezza Di 88 anni Quando ha bisogno di qualcosa Dice Senti Mentre sei in piedi Siediti Rialzati Se puoi andare a prendere l'acqua Un bacio Daniela da Catania Sì 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 Dai ancora Mi state dicendo Che io sono figlio di Reali Visto che Per Credo Fino ai 17 18 anni Avevo il tavolo Con i cugini A parte E non ci potevamo Avvicinare Al tavolo dei grandi Va bene Da oggi Mi sentirò Un lord Va bene Lord Marco Lord Marco Caro Marco Sappi che Tipo alle cene Della DJ Tena Noi siamo sempre Al tavolo dei bambini Ammai con lì Hamburger e patatine Troppo chiassosi A 50 anni da una parte Previ a te la parola Da piccola pensavo Dice Maria Ma cos'è sta storia Che per entrare in camera Di mia mamma e papà Devo bussare Eh beh Poi da sesta di sei figli Ho capito perché Alla mia nascita Hanno investito Nel televisore Mia nonna aveva la bruttissima Abitudine di dire Qualsiasi cosa mia madre Portasse in tavola Oh mamma che cattivo Ma come Oh mamma che cattivo E ti faceva anche Passare l'appetito Perché la te Ti condiziona Naturalmente Anche se era buonissimo Anche se si è risentita Da ormai cinque anni La facciamo mangiare Eh C'è Prima 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 Ho visto un ragazzino Immergere la lasagna Nel bicchiere di coca cola E poi mangiarla Con i genitori Tratturbabili Vabbè tanto È predigerita Così capito Aiuta la digestione E la piegatura A casa mia C'erano mille regole Quando ero figlio unico E i gomiti sul tavolo Eh sì E non si beve Rimorosamente Non si parla A bocca piena Parlando anche Non si scorreggia Le regole sono tante Ma alcune giuste Potremmo dire Niente Piedi sul tavolo Mentre si mangia Non si tirano Il cibo in faccia Non si fa la pipì Dal barcone Adesso che ho Oltre i tre fratelli Mio fratello più piccolo Per esempio Sono saltate tutte le regole Si sveglia a mezzogiorno E mangia Senza mutande Però Ha 19 anni Buongiorno Con vaglietta Con vaglietta Sì sì Disinfettate le sedie Per favore E lo dia Marco Mengoni All'854 Giusto al tempo Di ringraziare Laura Stellin Veronica Patrizio A Milano c'era Simone Sono capito bene Andrea Prevignano Grazie da parte di Giorgio Di Milano Ciao a tutti A domani Calavero Matti Uno di uno Su Radio DJ Sìììììììììììììììììììììììììììììììììì èììììì或ультore Quasi lo tagli